ciao oggi faremo un video bellissimo vediamo chi riesce a resistere di più in verticale al trampolone allora come vedete non c'è debora perché debora è in colombia a fare la gara dei giochi centroamericani mi continuate a chiedere se mina letizia e fada sono diventate lady in questo momento ancora no siccome facciamo degli orari diversi di allenamento perché siamo tantissime loro capitano sempre quando ci sono le grandi e quindi facciamo il video insieme ok perfetto pronte pronte mettetevi si facciamo la vertica sfida delle verticale sul trampolone chi la tiene di più mettetevi dall'altra parte per favore parte giada pronte pronta via mi dici secondi ogni venti per favore dai fate un po di tifo dai giada dai giada tieni tieni sei 40 eh bravissima tieni dai 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 tieni 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 no tieni dai 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 quanto sia mamma un minuto e 05 ottimo via pronta e subito un'altra e mina dai dai gira dai 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 grazie il numero da battere 1,05 bravissima dai 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 dura della fine dura 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 duro bravo quanto? 20 e 53 per Emma fada scusa Michi dopo 1 e 0 5 il numero da battere 20 dai dai dura 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 40 dai 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 che ci sei quasi dai dai viva le punte dai dai un minuto dai 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 dura 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 hai battuto un minuto e 5 dai 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 stop un minuto e 0 9 Michi un minuto e 0 9 da battere vai stai dura stai dura con la schiena dura 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 mi sembra che è come ti dava dura 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 sei a 30 dai quant'è 40 dai dai che ce la fai a battere 1 e 0 9 dai vieni 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 allunga allunga però chi sarei dopo avvantaggiato perché sa già qual è il numero da battere no un minuto eh però se non ce la fai non ce la fai eh lo so però dai dai 1 e 10 1 e 14 1 e 14 per ora è in testa Michi Kate 1 e 14 da battere dai 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 grande Katia dai 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 20 30 nooo bravo 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 si sta mentando dai 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 non ridere non ridere dai Katia dai 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 Katia dai dai nooo si sta mentando Federica 54 e 07 Federica da battere 1 e 14 14 manca poi Letizia e te si 20 20 dai 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 schiena dura dai 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 schiena dura 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 Dai 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 a 40 Dai 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 Quanto è? Quasi un minuto Dai dura dura Continua continua Un minuto Dai 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 Vieni Brava Fede Dai che ce la fai Dai Fede Dai Dai Fede Dai Fede Bravissima 1 e 33 1 e 33 Letizia Il numero da battere Bravissima Dai 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 a 20 Brava Quanto siamo? Dai 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 50 Su 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 Brava dai 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 Continua continua Un minuto Dai 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 Dura 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 Dai Leti dai dai che ce la fai forza 1,21 per Leti Emma dai manchi tu 1,33 da battere pronta? via 30 30 secondo me sta su due minuti dai facciamo record Emma 50 dai Emma dai dai Emma dai 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 continua continua 1,10 dai Emma brava no no quant'è? 1,33 quindi ha battuto record dai ancora un po' ancora un po' quant'è? 2 brava ancora una volta vince il record verticali Emma grazie grazie